Musica Un cordiale saluto, ben trovati a Da Tu per Tu, la trasmissione realizzata in collaborazione con il Consiglio Provinciale di Trento. Siamo con Walter Viola, Vicepresidente del Consiglio Provinciale. Parliamo innanzitutto di politiche sociali, welfare anziani, è stato proprio approvato di recente, nelle ore scorse, il disegno di legge. Un disegno di legge che ha visto anche in commissione la sua collaborazione per apportare dei contributi, naturalmente secondo lei, importanti per questa legge. Ma questa è una legge che ha avuto un itero abbastanza travagliato, perché due anni fa l'assessore Zeni aveva così previsto l'unica casa di riposo per i Trentino, l'unica azienda per i servizi alla persona a livello provinciale che erogasse i servizi per i nostri anziani. Poi ci sono stati parecchie declinazioni e cambiamenti, prima una per ogni comunità di valle. Alla fine siamo arrivati in commissione ad avere una proposta da parte della Giunta che è abbastanza ragionevole, cioè quella di integrare il più possibile la domiciliarità con i servizi per le famiglie, perché possano tenere gli anziani in casa, con la residenzialità che è il servizio cardine, che è quello delle case di riposo, da un lato e dall'altra è evidentemente questo sportello argento che è un punto unico di riferimento non solo per le famiglie e gli utenti, ma anche per tutti i soggetti che erogano servizi di welfare per anziani. Oggettivamente non è una vera riforma, è un riordino, va oltre la frammentazione, mette assieme un po' di novità che si sono poi rilevate utili in tutto il dibattito che c'è stato da due anni a questa parte su tutto il settore, anche da parte mia sia in commissione che in aula, soprattutto in commissione alcune proposte sulla valorizzazione delle APSP, quindi dei soggetti e dell'ente anche rappresentativo delle case di riposo, piuttosto che dei soggetti del terzo settore, che sono quelli che soprattutto hanno in mano la domiciliarità, insomma miglioramenti a questo livello ce ne sono stati. È importante che ci sia stato anche un miglioramento del servizio per le persone che usufruiscono? Il servizio, chiaramente la legge guarda a monte, nel senso che poi gli attuatori sono in parte le APSP, quindi le case di riposo, in parte le varie cooperative, associazioni, fondazioni che poi nelle case ci vanno, dalle famiglie ci vanno per portare pasti, per fare servizi semiresidenziali, per accudire, eccetera, per cui i servizi sono tanti. Certo la legge dà più sistematicità e dovrebbe favorire un miglior servizio, questo è l'aspetto centrale della norma. Rimaniamo sempre in tema di politiche sociali perché presto andrà in discussione anche un altro disegno di legge, il dopo di noi, sappiamo, insomma, destinato a migliorare la qualità della vita delle persone che in qualche modo hanno a che fare con la disabilità. È corretto così? Sì, l'anno scorso a livello nazionale è stata approvata una legge della 112, appunto sul dopo di noi, che prevede che per le famiglie con disabili che avanzano con l'età ci siano certe forme di aiuto. Perché? Perché evidentemente dopo una certa età le famiglie fanno fatica ad accudire i disabili e c'è bisogno di una strumentazione anche nuova e innovativa perché in qualche modo si possa dare una dignità di vita, di più autosufficienza possibile, di più indipendenza possibile a queste persone. Ho depositato un disegno di legge, ne avevo depositato uno anche il collega De Godenz, adesso è arrivato il disegno di legge anche della Giunta. Mi auguro che a breve si formalizzi un disegno di legge unitario, come è nelle cose, per rispondere al meglio a questo che è un problema reale, insomma. Ci sono delle famiglie dedicate in una maniera, devo dire, molto meritevole e anche commovente a questi figli disabili che hanno bisogno di avere anche una ragionevole certezza in prospettiva. Le associazioni chiedevano anche non solo attenzione al dopo di noi, ma anche al durante di noi. Hanno proprio di recente fatto un convegno. No, allora, lì devo dire che come spesso accade le norme vengono dopo la realtà, no? Anzi quasi sempre è così, se non sempre. Noi abbiamo in Trentino, grazie al cielo, associazioni e cooperative che già, come dire, erogano dei servizi importanti a questo riguardo. È chiaro che questa norma dovrebbe aiutare chi già fa e dare anche un contesto normativo, giuridico e finanziario stabile perché questi servizi possono essere di miglior impatto possibile sul bisogno di riferimento. Prima di chiudere abbiamo l'intervista, sentiamo l'argomento appunto dell'intervista di oggi e poi la risposta del Vicepresidente. Perché non date più spazio ai giovani aprendo nuove attività, nuovi centri? Ecco qui la richiesta. A dire la verità, noi abbiamo una legge sulle politiche giovanili che è abbastanza innovative, con una marea di interventi su svariati fronti. Dopo possiamo capire cosa vogliono dire centri per giovani. Centri ce ne sono, da Cavalese a Tione, passando per Tante Valli. Di certo l'attenzione ai giovani non è mai troppa, anche perché l'investimento sui giovani è l'investimento sul futuro e tutto sommato la politica non può che guardare ai giovani come proprio target di riferimento. Abbiamo parlato di anziani fino adesso, però è indubbio che guardare lontano vuol dire guardare ai giovani generazioni, a chi il Trentino lo prenderà in mano tra qualche anno. Si può fare di più, certo. Io sono convinto però che poi nella logica delle cose, come dire, i ruoli si alternano, sono chiari anche i ruoli, insomma voglio dire un giovane prenderà le sue responsabilità quando sarà il momento, sia adeguatamente formato, educato, educato in senso ampio, e a questo livello le strumentazioni sono molte. Di certo c'è un concetto di comunità che viene prima e su questo evidentemente la politica ha le sue leve, ma la comunità ha le proprie, per cui è un lavoro d'insieme con tutti i soggetti di una società viva, quale la nostra, perché i giovani abbiano spazio oggi e responsabilità domani. Dunque, sinergia e rete di fatto, insomma le due parole chiave. Grazie al Vice Presidente del Consiglio Provinciale di Trento, Walter Viola, per A Tu Per Tu, per questa puntata è tutto, l'appuntamento è ad una prossima puntata. Grazie.